Ciao, guardiamo le impostazioni per ISO automatici sull'Olympus OM1 Olympus OM Digital Solution e anche altro Olympus perché le impostazioni sono molto simile quindi sulla OM1 andiamo sul menu della macchina fotografica 1 nel tab numero 3 nel tab numero 3 abbiamo le impostazioni degli ISO massimo e di partenza quindi possiamo far partire anche da un ISO maggiore comunque il minimo è 200 fino al limite superiore che possiamo decidere noi e poi abbiamo la possibilità di impostare questa scala degli ISO automatici sia su tutte le possibilità quindi programma, diaframma, tempi o M manuale ma di default è su programma, diaframmi e tempi quindi se vogliamo utilizzarlo anche sul manuale dobbiamo adottare l'opzione 2 l'opzione PASM di default è PAS quindi la prima cosa da fare su tutte le macchine Olympus è portare la selezione su PASM una volta fatto questo e una volta impostato ISO automatici su una scala che va a 200 a 12.800 si può tranquillamente andare a scattare e nell'impostazione ISO in questo caso cliccando il bottoncino sulla macchina fotografica possiamo scegliere quali ISO adottare oppure nel mega menu possiamo andare a selezionare l'ISO qua su in alto questi sono tutti ISO fissi ISO 8000, 6400, 5000 eccetera eccetera continuando andando verso sinistra arriverò a un punto che mi dà ISO automatici raccomandato perché utilizzare questa impostazione? beh essenzialmente noi sappiamo che ci sono tre parametri per la tria dispositiva che sono diaframmi, tempi e ISO a me piace scattare con la modalità M ma essere in grado di gestire principalmente diaframmi e tempi di scatto e lasciare ISO adeguarsi autonomamente questo mi permette di scattare sempre con ISO adeguati e avere la impostazione giusta per ogni tipo di fotografia quindi per me la fotografia si basa sul fatto di poter scegliere diaframmi e tempi di scatto e lasciare che gli ISO si adeguino in autonomia autonomamente però adesso vi faccio vedere un altro interessante argomento nel menu la voce numero 2 ISO automatico minimo questo è un valore che si può lasciare su automatico ma si può anche impostare manualmente il parametro ISO automatico minimo viene utilizzato solo esclusivamente in due selezioni la selezione programmi e la selezione diaframmi quindi questo valore va utilizzato solo su quando si utilizza se si scatta in modalità P o in modalità A ora in questo momento ho messo la macchina su modalità A e ho impostato gli ISO automatici minimi a un 250esimo di secondo vado a scattare o a far finta di scattare guardate i dati di scatto vedete in basso a sinistra che la macchina è a un 250esimo perché sono in modalità diaframme quello che posso fare è solo modificare il diaframma modificando il diaframma lo scatto, il tempo di scatto rimane a un 250esimo e gli ISO vengono modificati da soli quindi chiudo il diaframma aumentano gli ISO ma non vado a toccare i tempi di scatto questo perché oggi non c'è molta luce e quindi la macchina fotografica tende a compensare la mancanza di luce aumentando gli ISO ora vado nel menu e facciamo finta che ipotizziamo che io volessi comunque effettuare uno scatto anche a tempi più lenti quindi impostiamo a un 60esimo di secondo riproviamo a farlo scatto ed ecco che la macchina fotografica adegua gli ISO però come vedete con un 60esimo di secondo ora poiché oggi c'è veramente pochissima luce diminuirò notevolmente questo valore simulando che nonostante io mi trovi in una modalità a diaframma quindi il valore che modifico è il diaframma quello che voglio fare è permettere alla macchina fotografica di scendere coi tempi fino a un ventesimo di secondo prima di iniziare a far salire gli ISO questo è molto interessante perché se voi volete essere abituati a utilizzare la modalità diaframma la modalità programma avete la possibilità di far sì che la macchina fotografica scenda fino a un ventesimo di secondo e dopodiché gli ISO si alzeranno per far scendere di un ventesimo di secondo vedete adesso chiudo il diaframma chiudo il diaframma adesso siamo a un ventesimo se chiudo ancora il diaframma non mi si abbasserà il tempo sotto un ventesimo ma inizieranno a alzarsi gli ISO questo mi permette di impostare la macchina in un modo molto molto particolare ora adesso vado a mettere la macchina su automatico ed ecco che io sono lascio che la macchina praticamente gestisca da solo gli ISO come vedete la macchina sta sempre a un sessantesimo perché è un sessantesimo? sinceramente non lo so credo sia un'impostazione di fabbrica che abbia scelto un sessantesimo come scatto come tempi di sicurezza ecco quindi se voglio utilizzare la modalità automatica per una modalità che sia diversa dal dal manuale M o da S posso impostare questa impostazione come più mi aggrada ad esempio potrei lavorare a un sessantesimo di secondo però se io voglio di fare degli scatti con dei tempi molto più lenti quindi fare del mosso creativo oggetti in movimento a questo punto posso abbassare anche questo valore di ISO automatico anche dai tempi molto molto lunghi e a questo punto la macchina si adeguerà io posso chiudere il diaframma e la macchina andrà fino a un quarto di secondo più chiuderò e più gli ISO saliranno se adesso inquadro un'area della scrivania scura vedrete che gli ISO salgono tantissimo però a un certo punto la macchina fotografica ha bisogno comunque di andare ad abbassare lo stesso i tempi di scatto è arrivato infatti a un mezzo un terzo un quarto se invece apro il diaframma la macchina cerca di stare dentro quel valore un quarto quindi c'è un minimo di tolleranza comunque la macchina diciamo esegue quello che abbiamo impostato un dettaglio interessante è che nonostante l'impostazione degli ISO automatici sia fra 200 e 12800 se c'è troppa luce la macchina fotografica potrà scendere ai valori estesi L100 ISO e L80 ISO sono due valori che la macchina fotografica ci mette a disposizione se vogliamo scendere sotto il 200 ISO e nonostante qui nel menu si è mostrato 200-12800 la macchina andrà comunque sempre a valori più bassi quindi a 80 o 100 e se c'è troppa luce salvandosi rifatto dal bruciare i bianchi essenzialmente o provando a salvarci da questo fenomeno bene spero che sia stato interessante e vi ringrazio come sempre ciao grazie a tutti